Vi sarà capitato di entrare in libreria e cercare un libro. Alcune volte l'autore che cercavate sarà stato incluso all'interno di uno scaffale dove in cima c'era il suo cognome, ma altre volte invece ci sarà stato scritto il nome del genere. Perché allora alcuni autori hanno la dignità di avere il loro cognome scritto in cima con lo scaffale e altre volte invece quegli autori sono il loro genere? Esiste una differenza? C'è qualcosa che distingue la scrittura di genere dalla scrittura letteraria? Proveremo a capirlo insieme soprattutto cercando di esplorare la relazione che c'è tra i meccanismi. Scriveremo anche un racconto per provare a vedere se questi confini sono i confini reali o solo commerciali. Io sono Michele Vaccari e vi aspetto al corso online della Scuola Holden Scrivere una cosa del genere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.